Riprende il cammino in campionato per il Ciliverghe dopo la lunga sosta prolungata dagli impegni con la rappresentativa di Serie D al torneo di Viareggio di un calciatore della Pergolettese che ha comportato il rinvio della gara di domenica scorsa. I gialloblu scenderanno in campo allo stadio Voltini di Crema domani alle 14.30 per affrontare la prima in classifica. Abbiamo riposato, abbiamo recuperato energie fisiche e mentali soprattutto perché abbiamo fatto uno sforzo enorme dall'inizio del ritorno, abbiamo recuperato tanta strada e tanta strada dobbiamo farne ancora da qui in avanti. La parte con l'entigione ci ha fatto capire che avevamo spinto tanto, peccato perché bastava fare un piccolo sforzo in più, però così non è stato e adesso riportiamo alla grande con energie nuove per il finale del campionato. Il posticipo della gara contro la Pergolettese permette di fare con il tecnico Carobbio un rapido punto sul campionato con il vantaggio sulla zona play-out rimasto invariato a due punti. Sappiamo benissimo che ogni partita vinta in questo campionato fa la differenza perché ci sono tante squadre che lottano per un obiettivo come il nostro che è salvarsi e quindi tante squadre, tanti scontri diretti, tanti punti magari anche mangiati con pareggi tra questi scontri diretti. La classifica si muove poco in certe situazioni e vincere vorrebbe dire veramente dare un bel colpo. È normale che domani sarà una partita difficilissima contro una squadra forte. La classifica ci aiuta ad andare un pochino più spensierati rispetto a quello che pensavamo, però c'è da dire che dietro comunque la classifica si è accorciata perché il Classe ha vinto, il Calvino ha vinto, la Zola ha pareggiato. Quindi punti dietro li hanno fatti. Noi sappiamo che domani è complicato, però sicuramente noi andiamo in campo per fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto da qui all'inizio, magari rispetto all'ultima tornando ad avere un atteggiamento diverso. Gli avversari guidati in panchina da Contini hanno perso una sola partita da novembre. Per il tecnico gialloblu sarà fondamentale il giusto atteggiamento mancato contro l'entigione. Domani faremo la partita che dobbiamo fare al di là delle diffide, al di là degli acciacchi, al di là di tutto. Dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo senza pensare a cose esterne che in questo momento ci possono credere a partire. Dobbiamo stare concentrati sul campo e dico sempre dall'inizio del ritorno, lo sai cosa dico, che gli altri sono più forti di noi, però devono dimostrarlo sul campo. E domani anche per la pergolettese se non abbiamo l'atteggiamento che abbiamo avuto per gran parte al ritorno sarà dura dimostrare di essere migliori di noi. Contriamo la prima classifica che ha fatto un girone da quando abbiamo incontrato l'andata adesso. Penso che abbia fatto un'infinità di punti, adesso non so bene di preciso quanti, ma so che Contini era una delle prime partite che sedeva in panchina contro quando l'abbiamo incontrato l'andata. Da lì in poi hanno fatto veramente un ruolo in marcia incredibile. Questo si va a significare che è una squadra che ha grande qualità, grande individualità, grande organizzazione, perché non vinci tante partite così per caso. Quindi dobbiamo stare attenti, sono una squadra che prova tante cose, anche sulle palle native sono pericolose, quindi dobbiamo tenere le antenne dritte più di altre volte. Ma questo penso che non debba dirlo io, i ragazzi lo sanno già di loro e domani faremo una grande partita, perlomeno dal punto di vista atteggiamento ne sono sicuro al 100%. Grazie. Grazie. Grazie.